Dicono che Villa de Vecchi sia una delle case più infestate d'Europa. Le leggende che parlano di frane cadute da una parte e dall'altra e di lei che rimane ancora lì come niente fosse, giocano sicuramente a suo favore. Ma ricordiamoci che innanzitutto questa casa fu la dimora di un grande viaggiatore e io non potevo assolutamente astenermi dal venire a visitarla. Che l'antico abitatore di Villa de Vecchi, il viaggiatore, non abbia ancora smesso di vagare anche dopo la sua dipartita. Grazie